Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di infortuni sul lavoro. Secondo un'analisi INAIL nei primi sei mesi del 2018 sono diminuiti gli infortuni in generale ma sono purtroppo aumentati quelli mortali. Ne parliamo con l'Avvocato Francesca Garisto. Sentiamo cosa ci dice. Buonasera. Questa sera vi parlerò degli infortuni sul lavoro. Le statistiche dell'INAIL relative ai primi sei mesi dell'anno 2018 se da una parte ci portano dei dati rassicuranti ovvero un leggero calo rispetto al 2017 del numero degli infortuni sul lavoro allo stesso tempo ci fornisce anche un dato allarmante ovvero l'aumento del numero degli infortuni mortali sul lavoro. Quindi non abbassiamo la guardia perché se da una parte il dato è rassicurante allo stesso tempo è allarmante perché quando si verificano gli infortuni sul lavoro spesso questi sono tragici con la morte del lavoratore. La possibilità che resta al lavoratore infortunato di ottenere un ristoro di quanto subito è la richiesta di risarcimento del danno. Tenete presente che l'infortunio sul lavoro una volta che si verifica consente di agire sia in sede civile che in sede penale. In sede civile per il risarcimento del danno. In sede penale perché venga punita la condotta reato che costituisce reato del datore di lavoro e delle figure apicali e responsabili della sicurezza sul lavoro che abbiano violato le norme di sicurezza previste dal testo unico decreto legislativo 81 del 2008 proprio sulla sicurezza sul lavoro. Per tutelare i lavoratori che possono avere delle remore a denunciare soprattutto dal punto di vista penale il datore di lavoro ci soccorre la norma dell'articolo 590 del codice penale che prevede la procedibilità d'ufficio dei reati di lesioni colpose commesse dal datore di lavoro o dalle figure che abbiamo detto responsabili della sicurezza sul lavoro quando le lesioni ovvero la malattia, le conseguenze dannose sulla salute del lavoratore abbiano una prognosi superiore ai 40 giorni. Quindi superiore ai 40 giorni non sarà il lavoratore che dovrà denunciare ma direttamente la notizia di reato, così si dice, partirà direttamente o dall'INAIL o anche dal pronto soccorso dove il lavoratore dovesse presentarsi dichiarando di aver subito un infortunio sul lavoro. Naturalmente anche nel processo penale si può chiedere un risarcimento del danno, costituendosi parte civile nel processo penale, ma naturalmente lo stesso danno non può essere duplicato, cioè chiesto sia in sede civile che in sede penale. E allora che succede? Succede spesso che il legale civilista e il penalista concordano tra loro che ciascuno agirà nella sede civile o nella sede penale, ciascuno per una voce di danno, perché il danno è composto da varie origini, per cui c'è il danno biologico, il danno patrimoniale, il danno morale, quindi ciascuno si spartirà, per così dire, le voci di danno da richiedere nella sede civile e nella sede penale per consentire di tenere in piedi entrambe le azioni e avere una maggiore pressione sull'azienda affinché risarcisca il danno. Tenete presente che nel processo penale il datore di lavoro che si presenta al processo dopo aver risarcito il danno ottiene certamente una maggiore benevolenza da parte del magistrato che lo dovrà giudicare e ottiene anche le attenuanti previste dal codice penale proprio per chi risarcisce il danno prima dell'inizio del processo stesso. Quindi l'azione penale è anche come spinta a una sollecitazione all'azienda per risarcire il danno. Quindi consiglio ai lavoratori che dovessero aver avuto un infortunio sul lavoro di munirsi di una consulenza che spesso si trova presso i sindacati sia di un legale civile che un legale penale affinché l'azione possa essere coordinata e più incisiva a loro tutela. Altra raccomandazione che mi sento di fare ai lavoratori che dovessero subire un infortunio è quello di conservare la documentazione medica e non solo medica, tutta la documentazione relativa alle spese sostenute in conseguenza dell'infortunio subito perché è sulla base di quella documentazione che poi i legali dovranno fondare la propria richiesta risarcitoria. Quindi conservare la documentazione sia di tipo strettamente medico che anche di tipo psicologico perché molto spesso gli infortuni causano anche stati depressivi che richiedono terapia psicologica. E ancora faccio presente riguardo alla responsabilità dell'azienda che è il decreto legislativo 231 del 2001 prevede anche una responsabilità penale proprio dell'azienda per cui, che ha come conseguenza, per alcuni reati per cui parlo del caso di per esempio omicidio colposo avvenuto sul luogo di lavoro con la responsabilità dell'azienda e delle figure apicali o anche le lesioni colpose e siccome le sanzioni sono molto penalizzanti per l'azienda per cui per esempio la sospensione del temporaneo definitiva della possibilità di contattare con la pubblica amministrazione l'esclusione da agevolazione e finanziamenti e contributi anche questo è un forte deterrente per le aziende è un forte incentivo ad attivare tutte le misure di sicurezza per i lavoratori Grazie e buonasera Con l'Avvocato Pollastro parliamo di contratti a termine e più precisamente di quali sono le nuove norme che regolano questa disciplina Torno sinteticamente su un argomento affrontato dal recente decreto cosiddetto dignità è entrato in vigore nello scorso mese di agosto Uno degli argomenti più importanti che viene affrontato da questo decreto riguarda sicuramente la materia del contratto a termine Allora vediamo di capireci Innanzitutto cos'è un contratto a termine lo sappiamo Il contratto normalmente, il lavoratore, la forma normale preferibile di contratto dovrebbe essere quello a tempo indeterminato ma ormai c'è la possibilità di assumere i lavoratori con contratto a termine e ormai, mi ripetisco, è diventato una larghissima consuetudine il percorso di passaggio nell'interno di un'azienda passando prima da un periodo di contratto a termine Allora l'impostazione storica del contratto a termine della legislazione di regolamentazione del contratto a termine risale agli anni 60 e da retto sostanzialmente fino all'epoca molto recente ed era il contratto a termine deve avere una motivazione il datore del lavoro può assumere a termine ma ad una condizione che sia in grado di provare perché a termine non ha tempo indeterminato perché il lavoratore deve essere assunto per sostituire un altro lavoratore nel frattempo assente perché magari è ammalato perché c'è un picco di lavoro particolare perché c'è da fare una lavorazione particolare che non sta nel circuito normale dell'attività questo fino al 2015 sostanzialmente è stata l'impostazione della regolamentazione del contratto a termine l'attore di lavoro doveva dimostrare e indicare perché assume a termine attraverso un meccanismo che è partito già nella legge Fornero e quant'altro c'è stata una sostanziale, radicale, direi totale liberalizzazione nel sistema del contratto a termine ed è stato abbattuto il meccanismo cosiddetto della motivazione il meccanismo del Jobs Act del 2015 prevede che il lavoratore possa essere assunto a termine anche con più contratti fino a 5 proroghe successive con più proroghe successive per un massimo di 36 mesi 3 anni all'interno di questi 36 mesi non occorre nessuna motivazione il lavoratore può essere assunto poteva essere assunto senza bisogno di alcuna motivazione a partire dalla metà dell'agosto 2018 cioè da poco le regole sono cambiate e sono cambiate in maniera molto interessante perché in qualche modo il legislatore ritorna rintroduce il concetto della motivazione che era stata totalmente spazzata via allora a grandissime linee per un anno massimo 12 mesi il datore di lavoro può assumere a termine il lavoratore può essere assunto a termine anche con possibili proroghe massimo 4 non più 5 4 per un massimo di 12 mesi per un anno quindi in qualche modo per i primi 12 mesi rimane l'impalcatura vecchia esattamente l'impalcatura vecchia ma superati i 12 mesi può essere fatto nuovo contratto un proseguimento del contratto o dall'inizio un contratto per più di 12 mesi per un massimo due le novità per un massimo di 24 mesi dopo si deve trasformare a tempo indeterminato quindi non è più un massimo di 3 anni ma un massimo di 2 anni e per il secondo anno per il periodo successivo ai 12 mesi ci deve essere esplicitamente una motivazione ritorno al concetto del motivo i motivi sono previsti dal decreto sono essenzialmente due ma in effetti poi con la modifica introdotta in sede di conversione di legge del decreto sono diventati sostanzialmente tre quali sono? esigenze temporanee ed oggettive estraneo all'ordinaria attività cioè io assumo uno perché devo fare una fiera che non è la mia attività normativa normale ma devo fare un lavoro che non è la devo fare tutti i giorni per cui se io devo svolgere un certo lavoro io da attore di lavoro un certo lavorazione temporanea posso assumere a termine secondo picchi di attività assolutamente non prevedibili ricevo una commessa improvvisa tramite internet che mi induce a dover fare lavoro in maniera assolutamente non prevista e non preventivabile oppure la sostituzione di lavoratore assenti lavoratore ammalato lavoratore infortunato e vi discorrendo il lavoratore che in eventuale aspettativa la lavoratrice madre per cui chi sostituisce la lavoratrice madre può essere assunto a termine queste sono motivazioni valide cioè allora ribadisco nell'arco del primo anno c'è rimane la sostanziale libertà del contratto a termine ma dalla fine del primo anno alla fine del secondo ci deve essere si rintroduce il concetto di motivazione di necessaria e valida motivazione oltre i due anni un contratto a termine non può proseguire si deve trasformare convertire meglio a contratto a tempo indeterminato grazie anche per oggi abbiamo terminato se avete domande per i nostri avvocati iscriveteci avvocati rispondono chiocciolalcomizio.it noi ci vediamo alla prossima puntata a presto Grazie a tutti.